Basta piangersi addosso, bisogna pensare positivo, cercando di superare i momenti critici, dandosi da fare, facendo il possibile e l'impossibile per tendere una mano a chi non vivrà un Natale davvero facile. Come le persone rimaste senza casa nel centro Italia per via del terremoto, da qui l'idea di Bellissimo 2016, concerto della solidarietà organizzato dall'associazione G20 di Pagani. Quest'anno nella Chiesa del Corpo di Cristo, il 30 dicembre, in scena l'Orchestra di Salerno per un concerto di fine anno e, a margine dello stesso, un evento che vedrà la raccolta di fondi per la ricostruzione della Basilica di San Benedetto di Norcia. Durante il concerto, infatti, sarà approntato un collegamento via Skype con alcuni amministratori di Norcia per far sentire loro il calore e la vicinanza del popolo paganesi. Il messaggio di pace che viene da quest'orchestra, da questa manifestazione che il G20 ha voluto organizzare, bellissimo, già il titolo è bellissimo, insomma, apre il cuore a qualcosa di particolare. Messaggio di pace, ma anche messaggio di solidarietà. Questo è molto bello. Solidarietà verso i bisognosi, ma quest'anno avrà una caratteristica particolare perché i proventi di questa manifestazione, le offerte che saranno raccolte, andranno per la cattedrale di Norcia. Siamo assolutamente tristi per quello che è accaduto, sia in Francia, quello che è accaduto ultimamente in Italia, ma è importante inviare un messaggio di ripresa. Ecco perché ci adeguiamo più al fatto che è accaduto una basilica e magari vorremmo immaginare che ci sia la volontà da parte degli uomini di rimetterla un'altra volta in piedi, di rinascere in mezzo a quell'ambiente dove praticamente tantissima gente sta soffrendo. Un Natale sicuramente nelle tende, oppure nei containers, oppure negli alberi, e quindi non a casa sua, sicuramente c'è la voglia di mandare un messaggio di ribeto, di rinascita e non certamente un messaggio di commemorazione perché altrimenti noi qua non ci muoveremo mai. Per cui bellissimo, deve avere questo tipo di spinto. Infatti noi apriremo il concerto con l'inno alla gioia, cioè che è la voglia di stare insieme e di inviare questo messaggio, ancora lo dico un'altra volta, di rinascita. Grazie a tutti.